Sono ancora senza nome e senza volto gli autori dell'attentato compiuto nella notte tra venerdì e sabato scorsi a Brindisi ai danni del consigliere comunale, segretario cittadino del PD, fresco di dimissioni, Antonio Elefante. I gnoti hanno dato alle fiamme la sua Fiat Grande Punto nel Rione con Menda. Nel fine settimana gli investigatori hanno analizzato le immagini delle telecamere del circuito di sorveglianza sistemate nel Rione. Non si esclude che presto potrebbero emergere novità sulla vicenda. Le indagini affidate agli uomini della Digos si stanno concentrando sul fatto che potrebbe esserci una relazione tra l'episodio e la scelta del consigliere di lasciare la guida del partito, aprendo di fatto un contrasto con la decisione del sindaco Mimmo Consales di restare in sella l'amministrazione nonostante la seconda inchiesta giudiziaria che lo vede indagato per ricettazione e riciclaggio per un debito con Equitalia in parte saldato in contanti. La vettura di Elefante è stata data alle fiamme intorno alle 2 del mattino in Via Romagna dove era parcheggiata. È stato solo grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco ad evitare che le fiamme distruggessero completamente la vettura. Immediato un intervento sul posto degli investigatori che hanno tentato di rilevare indizi utili alle indagini. Diversi focolai individuati, segno che non ci sono dubbi sull'origine dolosa delle fiamme. Intanto nei confronti del giovane amministratore sono giunti messaggi di solidarietà. A volte mi è capitato di essere in disaccordo con il segretario. Questo non ci ha impedito il reciproco rispetto, scrive Francesco Nisi del PD. Esprimo sincera e forte solidarietà per un atto vile che non ha giustificazioni.